Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Mi chiamo Giulia, sono una studentessa del terzo anno del corso di laurea di Scienze del Turismo. Ho scelto in Subria perché, oltre a concentrarsi sull'aspetto sociologico del turismo, lo affronta anche dai punti di vista economico e giuridico, offrendo maggiori sbocchi professionali per il futuro.